Oggi vi porto a fare una crociera lungo la Moldava, il fiume che attraversa la città di Praga. Ci sono vari tipi di crociere, per tutti i gusti e per tutti i prezzi. Per 250 corone a biglietto ne abbiamo scelta una che, in un'ora di navigazione, ci ha permesso di osservare dal fiume molti degli edifici e dei monumenti più importanti della città. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.